Una raccolta delle lettere pastorali che Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chietivasto, ha pensato, meditato e scritto in vent'anni per arricchire, formare e rinvigorire il cammino dei fedeli. Dunque un lavoro nuovo nella personale e ricchissima produzione del teologo, ma al tempo stesso antico. Il volume si rivolge al popolo parlando da vicino a ognuno, a tu per tu. Monsignor Forte. Perché le ho scritte? Perché è bello dialogare, annunciare la parola di Dio, ma anche farlo partendo dall'ascolto della gente, in un dialogo di amicizia, di condivisione, di ricerca e di testimonianza. Dunque potrei dire, ho scritto queste pagine per amore di Dio e per amore del popolo che lui mi ha affidato. Tanti i temi trattati nel libro con due argomenti prioritari che si coniugano perfettamente con il momento storico attuale. Ma credo un primo tema prioritario sia oggi quello della pace, proprio perché siamo in un mondo attraversato da conflitti. Pace non è semplicemente la pace delle armi, del più forte, ma è una pace fatta di giustizia, di verità. E quindi connesso a questo tema c'è l'annuncio, la testimonianza della verità e della giustizia sul piano etico, sul piano spirituale. La promozione dell'attenzione ai più deboli, ai più poveri e ai più fragili, ai quali è giusto e prioritario che sia vicina alla Chiesa ma anche alla società. E poi la grande attenzione ai giovani, perché il loro cuore si apre al senso della vita, alla ricerca di esso e alla gioia che può venire dall'incontro con Dio. E l'attenzione anche alle persone più fragili e naturalmente centrale è l'attenzione alla famiglia, che è nucleo fondamentale della vita civile ed ecclesiale.